Il settore dei servizi alla persona abbraccia quell'insieme di attività che rispondono e assolvono ai bisogni e alle difficoltà di persone di qualsiasi età essi siano che possono incontrare nel corso della loro vita riguardo all'autonomia fisica e psicologica allo sviluppo delle proprie potenzialità e capacità personali e più in generale alle relazioni sociali All'interno del settore dei servizi alla persona possono essere individuati vari ambiti di attività In servizi socio-assistenziali destinati a rimuovere o a superare situazioni di bisogno o difficoltà In servizi per il tempo libero per la crescita delle persone Attraverso l'offerta di spazi ricreativi di opportunità di aggregazione culturale Quali? Visita a mostre, viaggi, corsi di formazione personale, appuntamenti enogastronomici e di svariate opportunità di accrescimento personale Ciascun ambito fa riferimento a bisogni individuali di natura diversa Legati gli uni ad uno stato di necessità psicofisica e altri alla cura e allo sviluppo della persona Il settore dei servizi alla persona perciò svolge la propria attività ed eroga i propri servizi in relazione diretta con differenti tipologie di utenza Comune denominatore quello di essere in grado di stabilire una corretta relazione con gli altri con l'obiettivo di rispondere ai bisogni fondamentali di tutti Per maggiori informazioni contatta il numero telefonico 3356068289 Oppure Scriviti all'indirizzo di posta elettronica segreteria chiocciola associazione comunali.it Cordialmente Il presidente Sergio Olivieri